Anche i diciottenni potranno votare per il Senato, una novità che verrà applicata già a partire dalle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre 2022. Con la legge costituzionale del 18 ottobre 2021, numero 1, è stato soppresso infatti il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dei componenti del Senato della Repubblica, che era presente nell'articolo 58 della Costituzione. E quindi anche chi avrà compiuto la maggiore età per la prima volta potrà esprimere la propria preferenza in tal senso. A seguito dell'intervenuta modifica il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, DAIT, con la circolare numero 87-2022, precisa che nelle liste elettorali sezionali non dovranno più distinguersi con apposite annotazioni, gli aventi diritto al voto per la sola elezione della Camera dei Deputati rispetto agli altri elettori. si legge nell'avviso della Direzione Servizi Demografici, ufficio elettorale del Comune di Caltanissetta, che prosegue, visto che ora il corpo elettorale per il Senato della Repubblica e quello per la Camera dei Deputati coincidono. Tutti gli elettori che si recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento.